Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a un'altra delle nostre live. Come abbiamo detto, questa sera siamo un po' in anticipo rispetto all'orario consueto. Vedo che comunque ci sono già subito una ventina di persone nel primo secondo. Perché? Perché il nostro ospite non poteva alle 21.30 e quindi abbiamo deciso di anticipare. Chi non può essere presente la recupererà come al solito su YouTube, non vi preoccupate. Allora, iniziamo con il presentare il nostro ospite di stasera, che è un nostro amico, follower, che si è offerto di venirci a parlare di un argomento che conosce e che è molto interessante. Benvenuto Salvatore, ti chiederei di iniziare a raccontarci un po' di te. Ciao Luca, ciao a tutti quanti. Allora, io mi chiamo Salvatore Calì, salvo per in breve. Sono di formazione un ingegnere edile, mi sono laureato nel lontano 2010. All'inizio ho lavoricchiato un pochettino in Italia, poi mi sono trasferito a Londra dove lavoro tuttora e da circa otto anni mi occupo di progettazione di strutture, principalmente. Però all'inizio della carriera ho anche trattato un pochettino la progettazione edile in generale, quindi soprattutto anche l'efficientamento energetico degli edifici e poi per un breve periodo anche la progettazione del mix del calcio e struzzo, che poi magari ne parleremo, e i test sul calcio e struzzo e sui materiali da costruzione. Ottimo. Noi tempo fa abbiamo avuto, intanto grazie a Q1 per i tre mesi con Prime e grazie a Momo967 per il tuo primo abbonamento, dicevo, noi tempo fa avevamo scritto un articolo a firma di Fulvio proprio sulla decarbonizzazione del settore edilizio e Fulvio diceva che è proprio uno dei settori più complicati da decarbonizzare. Lui addirittura ha profetizzato che secondo lui sarà l'ultimo settore ad essere decarbonizzato assieme a quei settori industriali più ostici. Cosa rende così complicata la decarbonizzazione degli edifici in ambito residenziale? Sicuramente il tema è estremamente vasto, perché quando si parla di edifici si parla sia dell'edificio in sé, quindi come costruzione, e lì devi mettere insieme tutti i materiali che si utilizzano per la costruzione di un edificio, che possono andare dai materiali strutturali come il calcio e struzzo, l'acciaio, sino ai materiali che si utilizzano per le finiture, finestre, insomma tutto quello che compone l'edificio. Ma soprattutto poi, e questo è nella fase sia di progettazione che nella fase di costruzione dell'edificio, però soprattutto durante la fase di uso degli spazi ci sono sicuramente dei consumi energetici, consumi di materiali che comunque fanno parte anche di quel set risorse che si devono ridurre. e che fa parte anche della riduzione della nitride carbonica. E poi per ultimo nella fase di dismissione eventuale dell'edificio. Quindi si parla di un processo estremamente complesso, perché è fatto da tantissimi materiali e diverse fasi. Quindi bisognerebbe agire praticamente su diversi aspetti, non è solo un aspetto in particolare. Ok, capisco. E invece per quanto riguarda quello di cui tu ti occupi o ti occupavi nello specifico, quindi l'efficientamento energetico, qual è diciamo lo stato dell'arte? Spesso si sente parlare di grandi piani di efficientamento dell'edilizia, abbiamo avuto questo bonus 110%, che non si sa bene quanto bene abbia fatto, ha sicuramente mosso un sacco di soldi pubblici, non è chiaro quali effetti abbia ottenuto. Però ecco, insomma, qual è lo stato dell'arte? Beh, allora, su questo punto, considerando che io non seguo molto il settore edilizio italiano, perché comunque lavoro ormai da quasi dieci anni, diciamo otto anni in Inghilterra, quindi effettivamente in Italia ad esempio non so a che punto si è. Sicuramente posso prevedere che non si è in buone acque, perché comunque il patrimonio edilizio è estremamente vasto e non è una cosa che, diciamo, risolvi in un paio di anni o sicuramente neanche probabilmente in un paio di decadi. Considerate che... Vasco è vecchio anche, no? L'Italia ha un patrimonio immobiliare, insomma, storico, importante, con molti edifici che hanno un basso tasso di efficienza energetica, una bassa classe energetica. Sì, guarda, allora, sicuramente l'età dell'edificio conta, perché tu considera che abbiamo edifici centenari, soprattutto, diciamo, in Italia, essendo una nazione dove il patrimonio edilizio è molto, molto vecchio, soprattutto anche in centri abitati, diciamo, che non hanno i centri storici così antichi, che comunque hanno edifici più vecchi di cento anni o anche di più. Quindi i materiali che si utilizzavano una volta sono la pietra, il legno, i laterizi, che sono... Diciamo, quando vennero costruiti non c'era assolutamente l'intenzione di creare un edificio che fosse termicamente efficiente. Eppure ci sono delle piccole eccezioni. In Italia, effettivamente, sì e no dipende dalla zona. Se, per esempio, vai nei paesaggi montani, sicuramente gli edifici riflettono un po' il clima locale. se vai in Sicilia, anche lì gli edifici riflettono il clima locale. Quindi, seppure non c'era un progetto di, diciamo, di edificio che risparmiasse energia, perché a tempi non c'era bisogno di questa cosa, c'era un po' un adattamento al clima. Ecco, se questo è quello che si può dire. Considera che, sì, continuo, finisco la risposta. Considera che dal Novecento in poi la costruzione, i materiali delle costruzioni sono stati completamente rivoluzionati. Quindi, considera che alla fine dell'Ottocento abbiamo avuto l'introduzione dell'acciaio nelle costruzioni e poi nel Novecento abbiamo avuto il cacciestruzzo armato che ha completamente stravolto proprio l'aspetto delle nostre città. Considerate che se prendete una qualsiasi città italiana probabilmente, approssimativamente, un quarto, forse meno di quel quarto, è il centro storico mentre il resto, se non di più, dei tre quarti o, insomma, una grande proporzione è un centro, diciamo, nuovo. Costruzioni in cemento armato acciaio da nasci usa pochissimo però, soprattutto, costruzioni in cemento armato. Ok. Che differenza c'è? Intanto, grazie, SterdeDreamer, per i quattro mesi e Terranova U238 per l'abbonamento. Che differenza c'è tra cemento armato e calcestruzzo armato? Allora, sostanzialmente è molto semplice. Il cemento è un ingrediente del calcestruzzo. Un po' come la farina nella pizza. Ok. Il cemento è la farina e la pizza è il calcestruzzo. Ok. Quindi quando si dice una costruzione in cemento armato in realtà si intende che c'è dentro l'ingrediente ma poi il materiale effettivamente è calcestruzzo armato, corretto? Esattamente, sì. Il termine cemento armato è un po' improprio. Si dovrebbe dire sempre calcestruzzo armato. Però io penso che sia anche un po' la parola calcestruzzo essendo lunga e complessa da pronunciare. Forse si evita e si dice più semplicemente cemento. Ma sì, il termine più appropriato è calcestruzzo armato. Ok. Ho già imparato qualcosa di nuovo. io non sapevo sta cosa. In inglese che differenza c'è tra cemento e concrete? Perché so che si usano tutti i due italiani. Esattamente la traduzione letterale di cemento è cemento e invece concrete è il calcestruzzo. Quindi il parallelo si fa esattamente allo stesso modo che si fa con l'italiano. Ok, ho capito. E tu hai parlato prima delle emissioni legate alla costruzione, alla demolizione degli edifici. E allora inizio con una domanda preliminare. C'è i materiali che hanno meno emissioni sul ciclo vita coincidono con quelli che hanno anche una maggiore efficienza a livello termico oppure le due cose sono come dire bisogna trovare un compromesso tra due diverse esigenze. Cioè mi spiego meglio magari c'è un materiale che trattiene molto bene il calore quindi è termicamente efficiente e riduce l'impronta carbonica di un edificio dovuta al riscaldamento però magari lo stesso materiale per fabbricarlo richiede molta più energia quindi la domanda è se c'è da fare questo trade off o se invece i materiali più puliti sono anche quelli più termicamente efficienti. Allora sì e no dipende moltissimo dai casi ovviamente i casi sono molto complessi in genere quando si progetta un edificio nuovo se diciamo il team di progettazione il cliente è interessato a creare un edificio energeticamente efficiente allora ci si può sedere tra diciamo un tavolo attorno con tutti i professionisti e si decide insomma che tipo di strategia prendere perché purtroppo è la strategia che porta poi alla scelta della scelta migliore dal punto di vista sia energetico che poi sia energetico diciamo del materiale stesso quindi il ciclo a vita del materiale stesso sia il ciclo a vita dell'edificio stesso ora se dobbiamo scegliere il materiale diciamo più green tra virgolette in teoria è il legno perché il legno ha sia proprietà isolanti ma non troppissimo ok cioè non è ovviamente un materiale conduttore come l'olio d'acciaio ma non è neanche un materiale isolante come può essere la lana di roccia ad esempio però il legno in teoria se diciamo viene preso da come si chiamano da colture sostenibili ovvero che magari quello che prendi viene poi rimpiazzato e allora potrebbe essere considerato considerato green l'impatto carbonico del legno è molto basso confrontato a quello degli altri materiali considera che in linea di massimo ad esempio un metro cubo per produrre un metro cubo di calcistruzzo si emette già un metro cubo di anzi mi sembra non mi ricordo se è un metro cubo di calcistruzzo con un metro cubo di anidride carbonica o una tonnellata di anidride carbonica mi sa che più con la tonnellata di anidride carbonica ma se fosse un metro cubo di anidride carbonica sarebbe pochissimo sarebbero pochissimi grammi quindi tutto sommato infatti temo che siamo sulla tonnellata e qua arriviamo diciamo al secondo tema che volevamo che ci eravamo proposti di trattare ovvero come ridurre l'impatto carbonico della produzione di calcistruzzo io so che i cementifici sono considerati tra le industrie tra i settori hard to abate quelli insomma più difficili da decarbonizzare così come acciaierie cartiere e altri quindi quali sono le soluzioni allo studio in questo ambito allora ce ne sono svariate considerate che il allora il cemento si produce appunto nel cementificio ed è fatto da un processo che richiede la cottura in un in un forno di sostanzialmente due materiali due materie prime che sono l'argilla ed il calcare quindi questi due materiali vengono poi ci sono delle aggiunte perché si aggiunge un po' di silice e quindi viene un po' della sabbia poi si aggiungono anche dei metalli in genere il ferro che può provenire anche da rottami di ferro per forza da minerali questi materiali vengono frantumati ridotti in polvere e diciamo cotti a una temperatura di circa 1450 gradi quindi già la prima challenge è quella di riuscire ad avere un forno che raggiunge quelle temperature e diciamo emetta poco sfortunatamente al momento questi forni vengono alimentati a carpone a petcock che è un derivato dell'industria petrolifera e in parte poi dipende un po' dalla nazione per esempio nel Regno Unito si arriva anche al 40% di un misto di biomasse e incenerimento di rifiuti sull'incenerimento di rifiuti sono favorevole le biomasse utilizzate in questo modo ma non si possono usare dei forni ad arco elettrico? allora c'è l'intenzione di fare una cosa del genere nel futuro ho letto proprio oggi omeriggio mentre preparavo la live vedevo che un'opzione potrebbe essere di utilizzare non l'arc elettrico ma più che altro plasma non so come in che modo sembra abbastanza non so come sono fatti completamente però quello che può essere più diciamo papabile come opzione è l'idrogeno il problema è che il problema è che ovviamente sia sia il settore diciamo calore proveniente da elettricità che calore proveniente da idrogeno sono ancora settori molto poco maturi e quindi non li vedremo probabilmente nelle prossime non so quante decadi quindi al momento l'opzione diciamo più fattibile è quello di biomasse e incenerimento dei rifiuti il biomasso ovviamente dipende dalla disponibilità del territorio se devi iniziare a deforestare per portare legna ecco perché è chiaro che qua stiamo parlando di biomasse legnose cioè di biomasse in senso di origine vegetale bruciabili quindi o vai a prendere del legno in qualche modo deforestando o magari utilizzando del legno di recupero trucciolati e roba simile scarti d'industria oppure coltivi la colza ma già non so se l'olio di colza però c'è quelle temperature per cui da quello almeno da quello che leggo io nei vari report che ho visto la biomasse in realtà non insomma si usa quella che c'è non si va oltre diciamo quello che può anche perché al momento attuale comunque il carbone è quello che si utilizza e ci sono se ci sarà un cambiamento probabilmente sarà verso l'idrogeno verso l'uso di forni elettrici in qualche modo considera che nella cottura delle materie prime per il cemento la CO2 non è solo emessa dal processo di combustione anzi mi sembra più della metà ce l'avevo scritto da qualche parte più della metà viene dal processo di decomposizione del calcare perché quando tu metti il calcare in fornace si diciamo separa in ossido di calcio e antirete carbonica che è lo stesso processo che si usa per fare la calce sostanzialmente quindi prendi il carbonato il calcare è carbonato di calcio quindi Ca CO3 lo riscaldi mi sembra già a temperature molto basse intorno ai 100 gradi o forse anche meno lo decomponi in allirete carbonica e l'ossido di calcio l'ossido di calcio è quella che si chiama calce viva che è un ossido molto reattivo infatti non lo puoi cioè è anche un po' pericoloso non si può toccare con mi sembra che addirittura ti puoi questionare se lo tocchi se vuoi fare la calce lo mischi con l'acqua e diventa diciamo grassello se nel cemento diventa poi diciamo massa cementizia magari su questo poi lo tocchiamo dopo però diciamo gran parte della CO2 esce proprio dalla degradazione del calcare ma adesso ti faccio una domanda che non è direttamente collegata ma che mi hai fatto venire in mente sarebbe in teoria possibile allora fare la calce quindi il processo inverso attraverso la cattura della CO2 cioè io catturo la CO2 atmosferica la faccio reagire con con l'ossido con l'ossido di calcio e faccio il carbonato di calcio allora guarda è molto interessante questa cosa tu considera che a volte su internet non so se ti è mai capitato vedi quelle notizie dove ti dicono a calcistruzzo che assorbe la CO2 notiziona incredibile bellissime in realtà il calcistruzzo naturalmente già assorbe la CO2 perché il processo di questa degradazione la chiamo forse non è anche il termine adatto diciamo una volta che il carbonato di calcio si separa in ossido di calcio e CO2 questa reazione è reversibile quindi sotto certe condizioni la CO2 si riunisce di nuovo all'ossido di calcio per formare di nuovo il carbonato di calcio e questo processo si chiama carbonatazione e avviene naturalmente non devi fare nulla sostanzialmente se tu vai immagina un blocco di calcistruzzo da qualche parte in ambiente umido purtroppo ci vuole un po' diciamo di innesco l'innesco è l'ambiente umido la CO2 attacca il calcistruzzo e comincia a fare questa reazione di carbonatazione e quindi la parte più superficiale del calcistruzzo diciamo l'ossido di calcio comincia a trasformarsi lentamente in carbonato di calcio e quindi sì insomma tornando alla tua domanda non lo devi fare a post avviene automaticamente però siccome avviene sulla superficie del calcistruzzo tu teoricamente lo puoi accelerare questo processo se ad esempio quando demolisci l'edificio tutto il calcistruzzo che recuperi lo frantumi in parti quanto più piccole possibile in modo da aumentare la superficie diciamo esposta del calcistruzzo all'aria tra l'altro poi magari possiamo toccare il tema anche in modo più approfondito però questo è uno dei modi che si diciamo auspica per fare cattura della CO2 del con il calcistruzzo per il proprio allora intanto volevo ringraziare Onnivoro per il ride venuto con qualche amico da un altro canale e allora la domanda successiva è adesso al di là di questa piccola deviazione che era una curiosità mia per decarbonizzare questa parte del processo quindi il rilascio di CO2 dovuto alla reazione del carbonato di calcio che viene insomma decomposto c'è un modo per ridurne l'impatto l'impatto climatico allora può fare per esempio cattura della CO2 in fase di produzione questo non ti saprei dire però ci sono altri modi sia diretti che indiretti allora se tu produci il cemento e per esempio produci 100 di CO2 potresti diciamo aspicarti che una gran parte se la demolizione in base al principio che dicevo prima viene fatta in certo modo puoi dire va bene ho emesso 100 di CO2 50 li recupererò col processo di carbonatazione e questa è una cosa ora c'è un altro aspetto però da tenere in considerazione che è provare a ridurre in effetti l'uso del cemento nel mix del calcestruzzo ci sono dei materiali alternativi che possono essere utilizzati come materiale elegante e il calcestruzzo che sono alternativi al cemento stesso e questi materiali sono in genere o le ceneri vulcaniche tradizionalmente la pozzolana tra l'altro una curiosità che può essere interessante il pantheon a Roma e la cupola del pantheon è fatta anche in muri mi sa sono fatti in calcestruzzo infatti il calcestruzzo non l'abbiamo inventato diciamo il secolo scorso lo usavano già i romani e loro come materiale elegante usavano non il cemento perché non esisteva ma usavano la la pozzolana che si può che si si prende sostanzialmente dalle cave non è nulla di quindi tu immagina se ad esempio a posto di produrre il cemento dalle fornaci lo rimpiazzi non lo puoi rimpiazzare al cento per cento perché poi può avere degli effetti negativi però se lo rimpiazzi che so 50% con la pozzolana o con altri materiali ovviamente stai diminuendo le emissioni globali del manufatto che poi andrai a realizzare ci sono anche altri materiali che hanno proprietà la proprietà di legare nel calcestruzzo si chiama idraulicità che praticamente vuol dire che se tu prendi quel materiale e lo fai reagire con l'acqua questo diciamo diventa duro ecco e si dice idraulicità perché questa proprietà non dipende dal luogo dove questo avviene lo potresti fare potenzialmente anche sott'acqua quindi ad esempio la pozzolana che menzionavo prima ha questa proprietà tu puoi mischiare la pozzolana con l'acqua e questa diventerà dura anche sott'acqua e il cemento è la stessa cosa la calce è la stessa cosa e così via ci sono altri materiali che puoi usare per ridurre il quantitativo di cemento nel calcestruzzo sono le scorie d'alto forno e poi ci sono altri materiali che si chiamano in UK si chiamano GGBS che adesso in italiano non so come si traducono però sono sempre prodotti di risulta dalla diciamo dalla industria dell'acciaio mi sa di sì solo dell'acciaio qua ci chiedono visto che siamo in tema se è vero che il calcestruzzo romano più invecchia e più diventa resistente non non credo proprio non considera che il calcestruzzo in realtà più invecchia è almeno quello moderno quello romano immagino che abbia le stesse le stesse proprietà però il calcestruzzo moderno più invecchia è più degrado un processo di degrado è la carbonatazione vera e propria perché il carbonato di calcio in realtà se vuoi ti posso spiegare possiamo parlare però ovviamente più apriamo argomenti e più possiamo spiegare però in teoria la carbonatazione cioè quel processo che spiegavo prima che cattura la CO2 in realtà degrada il calcestruzzo perché crea un ambiente più sfavorevole alle armature che possono arrugginire però c'è un altro effetto che si chiama creep in italiano non mi ricordo come si dice in italiano comunque col tempo il calcestruzzo perde le sue qualità elastiche quindi sostanzialmente diventa riesce a sopportare meno sollecitazioni questo avviene col tempo naturalmente quindi in realtà quello che qua scrive qualcuno che il calcestruzzo indurisce sempre di più e questo vuol dire che diventa paradossalmente meno resistente perché più è duro meno è utile meno è resistente guarda la durezza può essere non lo escludo il fatto che possa diventare più duro può essere perché però la durezza non è nulla non è un parametro che ti interessa infatti credo che chi ha posto la domanda prima abbia confuso la durezza con la resistenza per quello che può essere allora qua mi fanno presente che il cemento non si può fare con l'arco elettrico perché non è conduttore effettivamente scorrimento viscoso ho letto il commento il creep in italiano scorrimento viscoso o deformazione viscosa è un effetto che si ha quando le strutture si deformano immaginale come una trave di legno se tu ci metti un peso sopra si deforma lo stesso avviene anche nelle strutture in acciaio in cemento armato qualsiasi strutture ovviamente le vedi di meno perché il cemento il calcetto armato è molto rigido con il materiale però il cedimento viscoso è una cosa che col tempo avviene anche se la trave o l'edimento non viene caricato cioè col tempo va smollandosi smollandosi sempre di più può causare dei problemi anche infatti in fase di progettazione si deve tener conto di questo effetto capito sì ragazzi sì sì più o meno i commenti in chat hanno confermato più o meno quello che avevo capito io allora ci sono altri settori diciamo critici dell'edilizia oltre a quello della produzione di calcestruzzo e a quello dell'efficientamento termico degli edifici o questi sono diciamo i due più impattanti beh più che altro questi sono quelli che conosco più più da vicino perché ovviamente c'è l'altro grande settore che è quello della produzione di acciaio la diciamo è accumunato per tutte un po' meno per tutte più o meno per tutte le industrie che utilizzano l'acciaio considera che l'acciaio dipende ovviamente dalla produzione e quindi l'acciaio è una lega di ferro e carbonio quindi tu c'hai del carbonio che lo devi che devi che devi inserire in lega che entra nel processo stesso la fusione è tutto il processo metallurgico che ci sta attorno io non sono un esperto devo dirti di questi processi però sicuramente ha le stesse challenge che hanno tutti i suoi settori hard to abate sì tra l'altro l'acciaio dei settori hard to abate è quello più impattante anzi volevo far vedere un attimo una cosa se tu io avevo preso posso mostrare il grafichetto che c'è su statista che fa vedere la diciamo la produzione di CO2 in base al settore se lo vai a vedere c'è sì 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 questo qui infatti puoi vedere che l'acciaio è iron e steel 7.2% esatto è un settore estremamente energivoro quello dell'acciaio e quello del cemento però sta qua diciamo nelle emissioni industriali non legate alla combustione all'energia è probabilmente proprio per quello che dicevi tu cioè del fatto che qua si produce CO2 ma non per motivi energetici ma per la reazione di cui parlavi prima e quindi non è classificato nella parte di energia e sono il 3% delle emissioni globali cioè la produzione di cemento influisce per esempio più dell'aviazione e più del traffico navale cioè che vedete qua sotto 1,9 1,7 cioè è un settore diciamo dall'impatto molto importante che poi questi valori giustamente tu li prendi come settori singoli però giustamente ci sono delle interrelazioni tra i settori perché giustamente l'acciaio devi considerare anche la CO2 prodotta durante il trasporto del materiale è lo stesso per il cemento tu considera che io ricordo che io l'ho ricchiato in Sicilia io sono siciliano il cemento in Sicilia arriva dal porto di Augusta non è prodotto in Sicilia e comunque in genere arriva sempre attraverso grandi navi che lo vanno a prendere dai luoghi di produzione in Italia credo che abbiamo delle cementerie anche perché abbiamo delle famose ditte che producono il cemento in Italia quindi è un prodotto locale ovviamente non di tutte le regioni ma in generale della nazione l'acciaio abbiamo ILVA non so altre acciaierie però per esempio in UK gran parte dell'acciaio è importato anche se c'è una buona parte che è prodotta localmente quindi devi entrare nel settore transport 16.2% in quel settore è il settore tra l'altro notate anche questo adesso non c'entra niente nell'argomento di oggi ma come le emissioni fuggitive unallocated fuel combustion quindi due settori che sono sostanzialmente spreco cioè non servono a nulla fanno un 15% più o meno di emissioni globali 14 è 8,6 14 sì 13,6 che il 13,6% delle emissioni globali sono banalmente dovute allo spreco questo l'ho sempre trovato molto molto interessante posso chiudere questo questo grafico sì 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 vai qua scrivono che c'è un cementificio a Brescia sì 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 no ci credo perché ce ne sono dei svariati in Italia cementifici ce ne sono ce ne sono tanti io mi ricordo che avevo ero passato vicino a un grande cementificio però non mi ricordo più dove sicuramente uno l'ho visto in Perù che era enorme e proprio prendeva tre quarti del panorama c'era questo paesino piccolo vicino ad Arequipa e con poi un cementificio gigantesco che prendeva tre quarti del del panorama considera che anche il trasporto del del cemento è una cosa diciamo perché tu lo puoi trasportare tu vuoi magari chi l'ha visto vedi i sacchi dai 50 kg quindi lo puoi diciamo mettere nei sacchi e venderlo così no questo è un metodo un po' meno efficiente di trasporto perché giustamente devi bacchettare e poi lo vai portando in giro oppure lo trasporti proprio in bulk cioè se so treni o camion o navi lo metti là dentro e poi queste vanno a rifornire l'impianto di calcestruzzo ecco l'impianto di calcestruzzo c'ha tutti i materiali lì messi nell'impianto e il cemento lo mettono dentro in genere dentro grandi silos pronto per essere non usano i sacchetti ecco hanno il silos che poi riempie le betoniere e così via ok quello è un po' più efficiente però sempre insomma da considerare beh il settore dei trasporti in generale ha un suo impatto notevole però insomma diciamo che e allora vabbè qua sto guardando se ci sono domande però sto notando che stanno spuntando tanti cementifici ce n'è una a Brescia l'altro a Isola delle Femmine Isola delle Femmine sul lago di Zeo c'è un cementificio beh i cementifici io adesso non so quale sia la capacità produttiva però mi risulta che diciamo i cementifici non abbiano una capacità produttiva gigantesca per cui ne servono comunque abbastanza per una produzione nazionale diciamo non è che ti bastano uno o due grandi cementifici paradossalmente quasi le acciaierie invece sono te ne servono paradossalmente di meno perché oggi ci sono le fonderie dove si va a rifondere sostanzialmente ero rottami di acciaio per cui oggi molto molti rottami a base di materiali di ferro si vanno a riciclare mentre le acciaierie che sono quelle che fabbricano acciaio a partire dal minerale proprio ce ne sono poche grandi noi in Italia avevamo l'ilva che era forse una delle più grandi d'Europa poi vabbè abbiamo visto quanto è grande l'acciaieria Azovstal in Ucraina che sono grandi quanto tutta la città di Roma si dei mostri cosa mostruosa considera che ad a parte i prodotti piccolini io mi occupo di strutture quindi nelle strutture i due prodotti principali dell'acciaio sono l'acciaio per carpenteria metallica che se voi andate in giro che so se immagini un capannone ci sono i profilati a doppiotti o svariate sezioni quello è un tipo di prodotto e poi ci sono le barre di armatura che sono diciamo genere circolari tondini con una zigrinatura attorno sono tipi di acciaio abbastanza diversi tra di loro non è lo stesso tipo di acciaio in particolare quello delle barre è più resistente quindi in teoria più duro ma scusa sì è meno duttile un po' meno duttile ma più resistente viceversa quello da carpenteria è un po' più duttile ma un po' meno resistente già ok e arriviamo allora diciamo visto che c'era stata una domanda a questo proposito e cioè andiamo a parlare un po' di sismicità perché tu nella tua nella tua carriera ti sei occupato anche di progettazione di edifici antisismici giusto? sì io ho fatto verifiche sismiche più che nuovi edifici però sì ok e qua c'è una domanda che chiede riducendo l'elasticità non riduci la tenuta antisismica ecco che caratteristiche deve avere un edificio antisismico rispetto ad uno normale e aggiungo anche quanto si può arrivare a rendere un edificio antisismico cioè io so che le centrali nucleari hanno un'enorme tenuta antisismica perché sono tutti molto paranoici però ecco c'è un limite anche per quelle a quanto si può arrivare allora se partiamo dagli edifici convenzionali considera che se tu un edificio lo progetti in maniera diciamo secondo le regole antisismiche sostanzialmente segui il codice ecco ci sono ovviamente devi utilizzare molti più materiali insomma per dirla semplice semplice devi aumentare le sezioni e così via però lo puoi fare è fattibile non è nulla di ovviamente è un po' più complesso ma nulla di impossibile se invece devi andare a rendere un edificio esistente che non è antisismico lo vuoi rendere antisismico là ovviamente apri il vaso di Pandora perché bisogna vedere come è l'edificio esistente non c'è una risposta netta e precisa su quella ci sono degli edifici che probabilmente c'è ben poco che puoi fare se vuoi rendere antisismico che ne so un edificio storico dove non puoi neanche fare un buco nel muro cioè là diventa veramente challenging se c'è una fresca se c'è qualcosa se puoi iniziare a introdurre che so nuovi elementi puoi fare demolizioni o costruzioni allora si già ma parliamo di un nuovo edificio devo costruire un nuovo edificio lo seguo lo costruisco secondo le regole però immagino che si possano usare materiali diversi che lo rendono più o meno resistente ai terremoti cioè se lo devo costruire in una zona non soggetta a terremoti non userò lo stesso livello di lo stesso calcestruzzo che uso per costruirlo su una faglia o no allora il calcestruzzo si può usare lo stesso allora do un po' una base di cosa è il sisma e cosa fa il sisma il sisma è il movimento del terreno ok il danno che provoca l'edificio viene dal fatto che quando tu scuoti qualcosa quello che ci sta sopra si scuote anche ora facendo muovendosi giustamente quindi subendo delle accelerazioni sappiamo che massa per accelerazione ti dà una forza ok legge di Newton quindi puoi semplicemente diciamo trasporre l'accelerazione che ti dà il terreno che poi viene diciamo tradotta dall'edificio in forze che si applicano nell'edificio ora queste forze tu le puoi calcolare ci sono i software le puoi fare anche senza software quello non è non è difficile ora il sisma cosa fa se tu c'hai un edificio che ha una massa molto alta per parità diciamo di volume giustamente attrae più forza ok per la stessa formula massa per accelerazione aumenti la massa aumenta la forza che è là però allo stesso tempo aumenti se aumenti la massa si presume che tu stai anche aumentando un po' la resistenza ok perché è fatto un elemento un po' più grande questo è un principio di base molto molto di base però in realtà è un po' più complesso di questo perché dipende anche da come oscilla l'edificio ok prova a spiegarlo in maniera semplice quando il terreno si muove l'edificio ha una risposta la risposta dell'edificio dipende dal periodo dell'edificio quindi dalla frequenza con cui l'edificio vibra col terremoto ora la forza che si esercita sull'edificio dipende dalla frequenza proprio da questa frequenza c'è un range di frequenze che causa la forza più alta le forze più alte sulla struttura e altri range di frequenza che causano forze più basse quindi non è diciamo non è proprio così straightforward nel senso che un edificio elastico un edificio rigido dipende da come un pochettino da che range di frequenze hai quando quando viene sollecitato ora tu considera se tu hai un edificio che di sua natura è a poca massa e oscilla molto potenzialmente quello può essere buono per te perché in genere gli edifici che oscillano molto diciamo attirano poche forze quindi attirano poco stress sugli elementi quindi se lo vogliamo tradurre in pratica per esempio un edificio in acciaio potenzialmente potrebbe soffrire meno il terremoto perché ha una massa più bassa e può tendere a oscillare un po' di più poi dipende anche là dipende quanto lo fai rigido da questo punto di vista ad esempio il calcestruzzo soffre di più il terremoto perché ha una massa più alta e tendenzialmente un edificio più rigido tendenzialmente ok ora se mi ricordi un po' la domanda originale posso integrare e aderire un po' di più alla domanda allora la domanda originale era dunque innanzitutto che caratteristiche ha un edificio antisismico e quanto può essere reso antisismico un edificio cioè può essere può resistere a terremoti cioè il più antisismico degli edifici che si possono concepire può resistere a terremoti fino a che ordine di grandezza si usa che ordine di grandezza si usa che unità di misura si usa si usa la magnitudo del terremoto o la PGA o non lo so se ci sono altre perché poi non è il mio ambito sì allora sì ci sono tanti temi questi qua allora parto dalla prima parte la domanda quali sono le caratteristiche di un edificio antisismico allora un buon edificio antisismico ha una struttura regolare questa è la prima quasi la prima regola sia in altezza che in pianta questo fa sì che quando oscilla non sviluppa dei movimenti particolari torsionali o strani che possono andare a sollecitare delle zone troppo piuttosto che delle alte poi la seconda diciamo regola è che diciamo se una struttura per esempio a gabbia come può essere o in telaiata come può essere per esempio una struttura in cimento armato tutte le colonne devono essere collegate da travi se tu lasci una colonna non collegata questa può potenzialmente diciamo oscillare troppo e può creare un problema poi non deve avere delle zone fragili quindi ti faccio un esempio se tu hai un edificio che ha 4 colonne al piano terra e poi ne ha 20 ai piani superiori il piano terra diventa un piano fragile perché anche se tu le colonne le hai progettate benissimo comunque se ne perdi una l'edificio ti crolla subito hai poca redundancy cioè hai poca il redundancy in italiano come si dice ridondanza esatto quindi devi creare edifici ridondanti e qui mi collego alla seconda parte della tua domanda quanto terremoto puoi assorbire in un edificio questo si fa nel codice ci sono delle regole che si seguono ci sono delle varie degli stage ok di danno che tu puoi accettare in un edificio il primo stage è quello che si usa per terremoti lievi ok tu vuoi con terremoto lievi non causi nessun danno quindi potenzialmente neanche la frattura di un muro di un muro non portante per esempio oppure le fratture nella struttura poi per terremoti un po' più forti accetti che ci siano dei danni ma che non ci siano dei crolli ok poi vai aumentando e accetti che magari ci siano dei diciamo delle rotture che in gergo tecnico si chiamano i cernire plastiche quindi accetti che la struttura abbia dei danni irreparabili in alcuni punti e questi punti proprio devono rompersi perché rompendosi dissipano l'energia del terremoto ok quindi si rompono ma non non si stacca il pezzo ok e un po' immaginati una trave connessa a un pilastro ok questa viene scossa il nodo si rompe però la trave non crolla ok non si stacca ok è abbastanza logico si può capire e poi come ultimo c'è uno stage in cui puoi assumere anche alcuni crolli parziali ma non vuoi il crollo totale dell'edificio quindi accetti che magari che so crolli un solaio o una trave o una parete eccetera ma per esempio non devono rompersi le colonne le colonne sono le ultime cose che tu vuoi che i pilastri le chiamo colonne i pilastri non vuoi che si rompa perché se si rompe il pilastro magari può crollare tutta la pilastrata sino in cima al tetto no? ok potenzialmente se ci sono pochi pilastri può ribaltare insomma può succedere quindi ci sono questi limiti qua ora dipende dal dalla zona in cui ti trovi i valori di sisma vengono espressi allora il valore più che piace di più a tutti è la PGA quella che hai menzionato tu la Peak Ground Acceleration che è l'accelerazione massima al suolo che un terremoto può provocare ok però in realtà la PGA è un po' diciamo un parametro che non si deve mai vedere da sola non è caratterizzante di un terremoto un po' come la temperatura media per indicare il climate change cioè è un parametro ma giustamente dietro c'è c'è un mondo non è solo quello quindi tu per caratterizzare un terremoto hai bisogno sia della PGA ma lo puoi fare in diversi modi o usi l'accelerogramma vero e proprio del terremoto che se vuoi velocemente posso spiegare cosa è l'accelerogramma sì sì se ti serve mostrare delle slide basta che c'è il tasto no 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 la slide no no non ce l'ho siccome hai parlato di accelerogramma la mia mente ha subito pensato a qualcosa di un grafico sì magari nel frattempo vediamo se ah e comunque spiega pure che cos'è nel senso sì sostanzialmente tu puoi prendere un apparecchio dove ci sono degli accelerometri che misurano l'accelerazione in quel punto di misura ok se tu plotti la variazione dell'accelerazione nel tempo ottieni un diagramma che si chiama accelerogramma ok abbastanza semplice la stessa cosa si può fare con gli spostamenti quindi un diagramma che ha in in ascissa c'ha sempre il tempo e in ordinata gli spostamenti quindi il terremoto lo puoi caratterizzare con questi diagrammi quindi puoi usare lo spostamento massimo al suolo puoi usare la PGA questi vengono inglobati nell'accelerogramma e poi dipende anche un po' della normativa che usi usi anche degli altri parametri che ti vengono dati dalla normativa che sono legati alla zona vera e propria dove stai costruendo l'edificio o dove stai facendo la verifica in genere questi parametri tengono conto ad esempio del tipo di suolo dove sei il suolo ha un grande impatto sul risultato diciamo sull'effetto del terremoto sulla struttura quindi quello deve essere tenuto in conto anche non mi dilungo troppo se vuoi possiamo entrare anche in dettaglio però se ci sono domande in questo momento non ci sono domande quindi possiamo direi possiamo andare avanti credo se avete domande ragazzi fatele pure in chat le giro sempre volentieri intanto grazie a Giruni per il tuo abbonamento ok quindi ho ho un'idea anche se è più complicato come tutte le cose una volta che vai a guardare il dettaglio sono sempre complicate e l'Inghilterra non è una zona particolarmente rischio sismico o sì? no 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 ci sono delle aree che hanno avuto degli eventi sismici in genere è un po' la zona diciamo dei Midlands quindi altezza dell'Irlanda più o meno e poi verso la Scozia considera che la prima zona più sismica vicino all'UK è l'Islanda perché ci sono i vulcani e così via una cosa che mi è venuta in mente che potrebbe essere interessante è come viene determinato il rischio sismico delle aree perché questo comunque ha a che fare un po' anche con la localizzazione delle centrali ad esempio se tu si sarebbe stata una domanda in arrivo ecco ok quindi parliamone pure sì allora tu considera che la valutazione del rischio sismico è un topic che viene trattato dai geologi dai sismologi più che altro si fa attraverso lo studio del terreno vero e proprio ci sono due due tipi di valutazione di rischio sismico che si possono fare e ce n'è diciamo quella di tipo deterministico e quella di tipo probabilistico che sono due grandi categorie quella deterministica è quella che che si è usata diciamo in passato è quella un po' più tra virgolette semplice da fare e si basa sostanzialmente nel prendere tutti gli eventi sismici che sono avvenuti non accertare e si dice ok quindi ci aspettiamo che ci possa essere un evento sismico di quel tipo con un tempo di ritorno di quel valore di quella magnitudo e così via in quella zona e così via quindi questo è abbastanza semplice tant'è vero che se tu vuoi progettare un edificio per esempio tu puoi anche andare a usare gli accelerogrammi di terremoti che sono che sono che sono avvenuti in quell'area se sono disponibili in genere non è sempre così se tu hai un'area molto sismica paradossalmente potresti avere tanti dati a riguardo per esempio se sei in Giappone probabilmente loro hanno database storici anche a partire da anni addietro e poi invece diciamo l'altro metodo che si è sviluppato più negli ultimi decenni è quello probabilistico che va a studiare proprio la conformazione del territorio quindi la prima cosa che si fa è si va a vedere dove sono le faglie quindi faglie rotture nel terreno zone di attività zone attive anche in base al tipo di rocce che ci sono in quell'area e si va a stimare quante è la probabilità che un evento sismico possa avvenire in quell'area i risultati non è detto che siano gli stessi perché magari puoi avere puoi avere un'area che non hai nessun record non hai nessun evento sismico a memoria storica però non di meno potrebbe essere una zona rischio sismico quindi là potrebbe esserci una grande differenza poi arriva la commissione grandi rischi e ti condanna perché non hai previsto il terremoto guarda allora il fatto è che i terremoti sono dei fenomeni completamente aleatori non si possono né prevedere non puoi sapere quando avverranno puoi solo fare questo tipo di studi che sono probabilistici puoi dire ok c'è questo rischio più alto più basso e così via però per esempio io ho un dato che uso spesso è la cartina del rischio sismico stilata dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per l'Italia che ovviamente non ti dice se e quando ci sarà un terremoto però ti dice quant'è la PGA massima che puoi aspettarti a seconda della zona sì sì questo è un dato realistico no? un dato che si può stimare sì 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 infatti l'outcome diciamo l'output di un studio di rischio sismico tira fuori queste mappe quindi tu hai una mappa dove ti dice questa zona ha un rischio più alto un rischio più basso e solitamente il rischio è espresso in valori di PGA perché il valore è più immediatamente comprensibile ecco non è che vai in dettaglio su altri parametri per praticità ovviamente se tu però invece vai a fare un progetto aspetta aspetta fermo hai tipo l'audio che si è messo a gracchiare fortissimo non so se l'hanno sentito anche dal pubblico ma tipo per un prova a parlare sì no hai l'audio che gracchia non so che cosa forse non è collegato bene cioè tipo se ti posso il cavo sì 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 ci dicono anche dal pubblico che ti si sente gracchiare inconvenienti tecnici sono il bello della diretta lo sapete sei adesso in muto com'è adesso va bene adesso va bene ok sì stavo dicendo sulle mappe di rischio sismico che vengono fatte per se tu fai un progetto un progetto vero e proprio di un edificio una centrale che sia giustamente poi vai a guardare tutti i parametri dell'area e perché ovviamente arriviamo al clou della questione in Italia la sismicità italiana è spesso citata come un buon motivo per opporsi al nucleare tra l'altro in maniera ridicola perché sembra che l'intera Italia sia territorio sismico che non esista neanche un chilometro quadrato dove puoi mettere un reattore che fa ridere perché poi ci sono anche dei punti non sismici per cui però ecco visto che hai fatto delle valutazioni ecco sul rischio sismico innanzitutto come messa l'Italia dal punto di vista generale se lo sai se invece hai fatto tutto in Inghilterra e poi qual è la tua valutazione sul potenziale rischio rappresentato da una centrale nucleare in area sismica e secondo te dove sarebbe per esempio la centrale di Cresco se ne parla perché è costruita in una zona abbastanza sismica e quindi abbiamo la regione Friuli che continua a fare moratori su moratori e sperando di convincere gli sloveni a non raddoppiarla loro continuano a scriverlo sulla macchina invisibile Sì Allora l'Italia è un territorio diciamo a rischio medio se lo vogliamo prendere come nazione intera considera che ci sono due grandi effetti che causano i terremoti uno è la placca africana che spinge contro quella europea e quindi c'è la zona diciamo che poi sono gli stessi effetti che hanno creato le catene montuose italiane quindi c'è tutta la zona appenninica che è abbastanza sismica e poi la zona dell'arco alpino che poi va a comprendere anche la Slovenia e quindi la zona di Crisco e poi giustamente l'appennino continua giù in Calabria in Sicilia e quindi la Sicilia spesso quindi soprattutto la zona di Messina che diciamo la congiunzione tra la Sicilia e la Calabria è una zona abbastanza attiva addirittura c'è una faglia che taglia lo stretto però la simicida italiana è media poi varia da luogo a luogo ma è media diciamo a livello mondiale le zone nel mondo più attive sono ovviamente la frattura del Pacifico che è quella che scuose sempre Giappone Indonesia insomma tutta quell'arco quello che si chiama l'anello di fuoco l'anello di fuoco circumpacifico che poi è lo stesso che fa tutto il giro del Pacifico e infatti altre aree sismiche come ben sappiamo sono la California il Cile il Peru in questo stato io sono andato in Peru in vacanza e una cosa che noti subito è che anche i ricchi non hanno i poveri vivono nelle favelas ma anche i ricchi vivono in delle casette perché dicono è tanto qua ogni vent'anni arriva il terremoto che te la butta giù quindi devi ricostruirla non stai a investirci tanto sulla casa piuttosto ti compri una bella macchina è vero sì quella sì è tosta tant'è che il terremoto più forte mai registrato è quello del Cile 1960 70 non mi ricordo 76 potrei dire una scemenza insomma quindi quella è quell'area lì poi c'è un'altra zona abbastanza attiva che è l'India che spinge contro il continente asiatico ah no 60 hai ragione tu ok Milano 1960 9.5 di magnitudo è quello poi quindi Cile poi c'è quello di città del Messico che è anche stato molto forte città del Messico io ho un amico che ha vissuto a città del Messico di geologo e lui mi raccontava che città del Messico è una città che sostanzialmente è costruita sopra un un deposito di sabbie diciamo come se fosse dentro un recipiente pieno di sabbia ecco e quando si scuose sostanzialmente la città galleggia su su questa sabbia è un effetto assurdo che si chiama liquefazione che è terribile ma comunque tornando alla domanda senza divagare troppo l'altra zona di sismi che sono l'India che spinge contro la Cina diciamo e quindi il terremoto del Nepal Birmania e tutte quelle zone lì ce n'è stato uno di recente tra l'altro in Nepal cioè di recente nell'ultimo anno sì e poi c'è diciamo quella che è l'Asia minore quindi Turchia zona del Mar Nero Istanbul il Libano insomma quell'area lì è anche particolarmente attiva queste sono le aree le ultime che ho detto sono quelle proprio più sismiche al mondo l'Italia è un po' più giù di questo diciamo di questo valore poi c'è il nord Europa insomma quindi Scandinavia Regno Unito ma anche la Spagna stessa non è così attiva sono formazioni più antiche geologicamente quindi insomma però sempre tornando alla domanda tu mi chiedevi se diciamo l'ipotesi di mettere una centrale da qualche parte in Italia ci sono delle zone meno sismiche insomma allora partendo dal fatto che non è impossibile costruire una centrale in zona sismica ovviamente giustamente se vuoi vincere vuoi vincere facile non ti vai a mettere in una zona che ti rende difficile la vita giustamente vai a selezionare zone più più semplici da da usare però non sarebbe impossibile per niente la domanda che ti ho fatto prima era un po' anche per quello quando ti ho chiesto fino a che punto può resistere e tu mi hai risposto è chiaro che però questa cosa ha dei costi per cui se se puoi fare una centrale in una zona non sismica probabilmente spendi di meno ma sì sì certamente ma considera che in generale gli edifici industriali non non sono quel top top di difficoltà ora magari qualcuno mi contanderà a dire ah stai semplificando ma in realtà cioè se ricordi prima menzionavo che la regolarità è una regola abbastanza importante nell'edificio edifismico gli edifici industriali in genere sono regolari non sono strutture astruse con forme particolari architettonicamente pregevoli ecco cioè fai un cubo lo metti là una centrale nucleare è un cilindro insomma il contenimento tra l'altro noi siamo andati col comitato nucleare regione a visitare Inclipoint sì qualche mese fa il cantiere ci sono questi grandi cilindri poi di acciaio poi c'è la struttura di contenimento che ancora non hanno fatto però lo stanno costruendo il cilindro il cilindro è una struttura super stabile non la sposti manco manco se ci butti cioè terremoto più forte veramente che poi giustamente non è solamente la struttura che deve resistere ci sono anche le parti meccaniche ci sono detubazioni ci sono però insomma anche quelle non è che sono cose che così diciamo non è rocket science va si fan è incredibile in Italia se ci sono zone non sismiche puoi pensare alla Sardegna è una zona meno sismica in Italia qualche zonuccia in Sicilia qualcuna la Puglia credo che un reattore nucleare in Sardegna non lo vedremo mai no no si dipende c'hanno il dente avvelenato proprio è un po' sensitivo come argomento ma insomma in generale mi sembra la Puglia non è neanche tanto sismica c'è la pianura padana stessa Nish dipende dipende dove poi altre zone considera che poi tutto il resto del territorio è montuoso ci sono gli appennini quindi insomma devi andare a cercarlo probabilmente sicuramente la zona delle aree delle ex centrali sono state già diciamo assistate da quel punto di vista quindi magari te ne vai sempre l'area di Latina l'area laziale la Toscana il Piemonte in generale è molto basso come sismicità questo lo so perché si abito quindi so il Friuli già è un po' più abbiamo avuto il terremoto del Friuli anche lì nel 1970 se non mi ricordo male anche lì non impossibile però giustamente magari non lo vai a scegliere appositamente ecco però invece questa centrale di Krishko è proprio come dire nella stessa area sismica credo del Friuli solo che in quell'area contiene tutta la Slovenia quindi non è che hanno molte alternative da quel punto di vista cioè o la fanno lì o non la fanno perché sì beh allora Krishko è stata progettata perché già il fatto che fosse una zona sismica si sapeva già da tempi in memory quindi non è stata una sorpresa io ho studiato insieme ai ragazzi del comitato nucleare ragione i famosi stress test che sono stati fatti nel 2011 su Krishko e sostanzialmente ci sono stati quelli che sono opposti che non gli piace gli ambientalisti che ogni volta vanno a dire che è pericolosissimo e insomma giusto per ridimensionare un po' che ho un po' queste cose però tu c'è scritto anche abbastanza a riguardo quindi insomma Krishko è stata costruita è entrata in attività nell'83 mi sembra però la progettazione iniziò negli anni 60 quindi negli anni 60 se uno si va a leggere questi questi reports negli anni 60 hanno iniziato a fare le indagini geotecniche quindi hanno analizzato il suolo e hanno fatto diciamo hanno cercato di vedere quale fosse hanno fatto anche prove sismiche cioè hanno fatto delle indagini per quadrare il rischio sismico così giusto per fare un ricappa per spiegare come è la situazione la progettazione iniziale vai no 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 ok la progettazione iniziale loro utilizzarono il valore di pga di 0.3 perché veniva dal codice americano considera che ai tempi non c'erano ancora queste mappe che ci sono adesso quindi loro hanno fatto i loro studi poi hanno deciso che il valore di 0.3 fosse adeguato per quel tipo di progettazione però attenzione perché ora qua vediamo nella storia un po' 0.3 è il valore di safe shutdown non è il valore di cioè che diventa arriva un terremoto con 0.31 e crolla tutto cioè è safe shutdown vuol dire che a 0.3 la centrale si spegne automaticamente e boh quello quello addirittura a 0.15 è stato settato come livello di operatività quindi sotto 0.15 non si smuove niente non succede nulla comunque poi negli anni nel 94 si fecero degli studi più approfonditi del territorio si arrivò alla conclusione che la PGA dovesse essere aumentata a 0.42 quindi dal 0.30 iniziale diventa 0.42 e a seguito di questo poi nel 96 si fecero delle analisi perché giustamente prima 0.42 hanno fatto delle analisi sono andati ad aggiornare alcuni sistemi hanno visto hanno valutato se c'erano delle criticità eccetera e non c'era nessuna criticità poi nel 2004 mi sembra c'è stato un ulteriore studio sempre sul rischio sismico e hanno incrementato la PGA da 0.42 a 0.56 mi sembra quindi non dico il doppio di quello originale ma quasi diciamo quasi il doppio di quello originale e anche lì sono tornati i tecnici sono andati a fare l'autorazione del caso e per dirla brevissima hanno detto ok la struttura iniziale era stata progettata in modo ottimale noi abbiamo fatto le verifiche non troviamo dei diciamo delle criticità particolari hanno implementato alcune cose perché mi sembra anche un po' sensible cioè hanno soprattutto le parti meccaniche e le parti idrauliche rispetto a quelle altre strutturali diciamo o del core e in più una cosa importante è che queste ultime due analisi quella del 96 e quella del 2004 le hanno fatte usando un metodo probabilistico del calcolo del rischio sismico quindi sono analisi un po' più accurate rispetto a quelle che se vi ricordate prima abbiamo parlato di questa cosa sì 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 certo io me lo ricordo poi spero anche il pubblico quindi l'analisi probabilistica funziona in questo modo ti dice che il rischio è questo valore entro questi altri valori quindi per esempio ti dice noi possiamo avere il rischio di questo failure per un terremoto che sia più forte di questo valore ma la probabilità che avenga questo terremoto è bassissima per esempio loro alla fine del report nonostante l'aumento della PGI dicono che abbiamo fatto le analisi e abbiamo concluso che non ci sono danni al reattore o danni o insomma sì ecco danni al nocciolo entro 0.8 quindi siamo oltre a quel valore di 0.56 che del rischio sismico dopo 0.9 nel report si dice non si possono escludere diciamo leakage di radiazioni all'esterno del del nocciolo e questa cosa ha fatto spaventare un po' tutti diciamo ma come allora quindi può succedere allora che succede allora se viene un terremoto di 0.91 che fa si perde la si diciamo la radiazione viene liberata all'esterno ecco là bisogna infatti è importante capire i risultati non è che bisogna leggere i numeri così 0.9 sei praticamente a una sollecitazione meccanica pari a quella della forza di gravità tanti auguri cioè con molto meno crollato crollata mezza mezza slovenia tu considera che 0.9 il dpga se la applica edifici convenzionali lì c'è anche gli edifici fatti ben antisismici soffrono abbastanza probabilmente non dico che collassano però li butti edifici non sismici sono a terra completamente quindi è un gran bel valore 0.9 ma l'asse anche che poi anche lì tipo loro dicono 0.9 è il tempo di ritorno di un terremoto che può causare una piggia di 0.9 tipo di 500.000 anni quindi uno si deve fare queste domande io voglio cioè mi voglio fare i complessi cioè voglio essere diciamo voglio voglio aver paura di qualcosa che abbia un rischio così basso cioè devo anche un po' fare delle votazioni razionali ecco quello è l'outcome non c'è nient'altro da dire hanno fatto una domanda molto interessante in chat e cioè lasciamo un attimo da parte delle centrali nucleari il ponte è sullo stretto di Messina perché lì invece siamo in una zona che è sismica insomma ci sono stati terremoti proprio nel canale di Sicilia poi quando capitano i terremoti lì croll a mezzo patrimonio immobiliare perché a casa su due spesso è abusiva non voglio fare non voglio essere razzista ci mancherebbe però è un dato di fatto è vero ci sono regioni del sud dove l'abusivismo edilizio arriva al 60% degli edifici per cui questo ponte di cui adesso si è tornati a parlare è una cosa che torna ciclicamente ma si può fare o no? Domandona ma guarda allora io non sono un progettista di ponti quindi a volte un pochettino cerco di non sparlare della situazione ti posso dare la mia opinione personale ovviamente allora la prima cosa che è importante diciamo dire è che per dire se una cosa si può fare o no bisognerebbe vedere il progetto perché a quanto pare io sapevo che qualcuno aveva fatto il progetto di sto ponte io non l'ho visto il progetto però a quanto pare c'è un progetto poi che sia una fake news o che sia diciamo qualcosa per fare propaganda politica non ho idea ma assumiamo che ci sia questo progetto ok? io ho dei ho i miei dubbi allora tu considera che il ponte più lungo al mondo al momento è quello di l'Akashi Bridge in Giappone che è un chilometro e sei mi sembra e il ponte di Messina sarebbe se lo fai a campata unica sarebbe tre chilometri e qualcosa quindi stai quasi raddoppiando l'accampata e non dico che ora io non so cioè va oltre la mia competenza proprio in maniera assoluta probabilmente va oltre la competenza anche di alcuni progettisti di ponte perché diventa cioè quella è una vera e propria sfida tecnologica a tutti gli effetti non è già l'Akashi Bridge fu una sfida tecnologica ai tempi tu considera che i ponti vanno a a generazioni no? come le centrali nucleari un po' c'è il ponte di pietra che arriva assieme a quella campata poi l'acciaio ti aumenta poi e così via tu considera che per fare i ponti così lunghi se dovete arrivare alle tecnologie dell'acciaio i treffoli il ponte strallato con cavi e tutte queste cose qua che sono tecnologie molto moderne l'analisi del vento fatta col computer l'analisi aerodinamica del ponte dell'impalcato stesso cioè è una disciplina a sé stante quindi quelli che ti dicono si può fare o non si può fare o sono diciamo il top nel loro campo oppure in genere stanno sparando a caso secondo me quindi anche io mi metto in quel gruppo lì poi dal punto di vista sismico ci sono alcune cose da considerare allora sì è un'area molto sismica considera che il terremoto di Messina del 1908 fu il più forte terremoto della storia italiana mi pare arrivò a magnitudo sette e mezzo forse otto forse otto è troppo quasi otto sette e qualcosa però paradossalmente il terremoto non è il primo problema dei ponti soprattutto dei ponti così lunghi che sembra sembra controintuitivo però ti faccio ti spiego perché è molto molto semplice in realtà da capire se tu prendi tu immagini prendi una corda aspetta mi metto in campo immagini prendi una corda e scuoti la corda da un lato perché il ponte lo puoi scuotere solamente diciamo da dove si appoggia il terreno non è che l'aria lo può muovere il terreno che lo muove quindi tu scuoti questa corda immaginando di scuotere il ponte da un lato prima che la vibrazione arrivi al centro della campata cioè ce ne vuole devi riuscire tu insomma ovviamente la corda è breve ci riuscirai però immagina se la corda fosse molto 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 lunga ok certo è chiaro per cercare di portare la vibrazione diciamo l'oscillazione al centro della corda cioè devi oscillare di un bel po' non è facile capito quindi il ponte il ponte giustamente soffre di più al centro della campata perché perché il punto è che si inflette di più che più si inflette di più sia verticalmente che orizzontalmente ok però è quello probabilmente il punto meno sensibile al terremoto il terremoto giustamente ha gli effetti sulle pile che sono attaccate al terreno giustamente cioè non si può dire che non è banale però non è il problema principale il problema principale dei ponti sono dei ponti così lunghi che è il vento il vento sì quello è challenging perché se voi andate su youtube e cercate il video del ponte Tahoma vediamo se riesco a l'hanno citato in chat Tahoma Bridge hanno detto che per ora in chat scrivono era progettato male ed è andato in risonanza esatto quello fu il il collasso purtroppo nei ponti si dice spesso si impara dal failure vabbè in qualsiasi industria si impara dal failure però quello fu uno dei failure che fece diciamo imparare ai progettisti a considerare il vento in maniera in maniera corretta quello è tu considera che quello è fatto quando il vento colpisce un ponte tu immagini questa è la sezione del ponte ok il vento che fa magari riesce a ruotarlo un po' da un lato nel momento in cui lo fa ruotare se i due vortici si distaccano se i due filetti di aria si distaccano dall'altro lato cioè l'emparcato è ruotato talmente tanto che i filetti si distaccano si creano delle turbolenze dall'altro lato ok è la stessa cosa che succede anche nell'area di un aereo ok quindi la turbolenza a parte che ovviamente è una sollecitazione maggiore sul ponte però può portare il ponte a oscillare anche dall'altro lato e quindi il fenomeno si ripete all'opposto quindi sostanzialmente hai un movimento torsionale diciamo oscillatorio e questo è il movimento peggiore che può accadere a un ponte tant'è che infatti poi dopo il Taoma Bridge si fece in modo che gli impalcati fossero rigidi in modo torsionale però se tu prendi il ponte di Messina accampata unica a parte la deformazione orizzontale di sto ponte dovete immaginare che se viene spinto dal vento sto ponte ovviamente si può spostare orizzontalmente come una molla e quello non è da sottolineare e poi ovviamente anche il vento può creare questi effetti torsionali non è semplice rendere rigido torsionalmente un ponte così lungo qua riportano che Salvini ha detto che porterà il ponte sullo stretto lunedì al consiglio dei ministri va bene Salvini può dire quello che vuole poi insomma ne dice uno al giorno io guarda se ti devo dare un'opinione personale secondo me il ponte di Messina si dovrebbe fare a più campate non a campata unica perché la difficoltà diventa quando tu fai una campata troppo lunga ok se cominci a mettere dei piloni dei piloni più ovviamente il pilone poi lo dovresti mettere nel mare giustamente perché e tutti dicono eh sì ma il mare però ci sono le correnti ci sono c'è comunque però cioè non la vedo tanto più difficile di cioè challenging per challenging sono a me più semplici creare creare i piloni nell'acqua poi magari c'è qualcuno che mi dice stai dicendo una stronzata però ci sta si deve vedere anche perché scusa per fare il ponte lungo se tu vuoi fare solo due pile all'estremità la pila del ponte quindi la torre che svegge poi i cavi deve essere altissima cioè deve essere una torre poi giustamente poi c'è il cavo perché il cavo arriva alla torre e poi scende giù di nuovo che si deve andare ancora al suolo cioè la torre magari è alta che so 70 metri 80 metri poi ci saranno altri 100-150 metri di cavo che deve andare c'è sopere mostruose quello è più anche l'altra difficoltà qualcuno ci dice costa meno farlo più campate se magna di meno non voglio probabilmente sì è una mossa politica io non so neanche se poi i politici capiscono cosa vuol dire campasa o pila quindi intanto io voglio ringraziare Rick Senato per i tre mesi e Night of Dolan Roth per i sei mesi non stavo più guardando gli aggiornamenti su quelli che si abbonano mi raccomando continuate ad abbonarvi e a sottoscrivervi al canale che insomma così possiamo continuare a proporvi contenuti di qualità qualcun altro qua invece parlava del tunnel sottostretto di Messina io non diceva tutte quelle idee sul tunnel sotterraneo io non ne ho mai sentito parlare però non so sì ma sì guarda c'è l'Eurochannel sai quello che collega l'UK alla Francia che è un esempio un bel esempio ma a Messina non avrei idea se si può fare o no quella diventa più esula completamente dal mio campo più che altro ma io non so quanto costi fare una roba del genere perché il traffico tra Londra e la Francia voglio dire abbastanza intenso da giustificare la costruzione di un tunnel tra Messina e Reggio Calabria non ne sono del tutto sicuro ecco però vabbè stiamo andando andiamo stiamo andando molto molto oltre a quello che doveva essere il tema di questa di questa serata abbiamo divagato allora rispondo a un paio di domande veloci qualcuno ci chiede di cosa ti occupi e l'abbiamo detto all'inizio lui è come dire si occupa si è occupato nella sua vita sia di studi diciamo sulla sismicità di analisi del rischio sismico degli edifici sia di progettazione di sistemi e in particolare oggi lavora nel campo dell'efficienza energetica nel settore edilizio io allora io sono ingegnere strutturista al momento da otto anni a questa parte quindi se la parte sismica qualche progetto l'ho toccato ma in generale progettazione di strutture poi c'era qualcuno che aveva che aveva non aveva capito quando parlavamo di otto di nove della PGA che cosa che cosa sono in effetti forse l'abbiamo dato per scontato cioè che ha chiesto qual è l'unità di misura allora si vai puoi dirlo tu non ti ha senso si allora parliamo di accelerazione quindi la variazione di velocità nel tempo ok nella macchina acceleri e quella è l'accelerazione ok ora vai è l'unità di misura però non sono metri al secondo quadrato che sarebbe l'unità sistema internazionale ma parliamo si si no allora si usi metri al secondo al quadrato però la rapporti all'accelerazione di gravità quindi l'accelerazione di gravità è 9,81 metri al secondo quadro ok l'accelerazione sismica si si rapporta a questo valore quindi se noi diciamo un g che poi anche in aeronautica si usano questi valori però se tu dici un g stai applicando l'accelerazione di 9,81 metri al secondo se tu dici 0,5 g stai applicando la metà di quel valore e così via tutti gli altri valori intermedi per cui quando diciamo 0,9 vuol dire che siamo al 90% dell'accelerazione di gravità sulla superficie terrestre quindi siamo all'incirca un 9 virgola un 9 metri al secondo quadrato sì tutte le altre tutte le altre domande in realtà abbiamo risposto e tra l'altro si sono fatte le 8 per cui io andrei anche verso la chiusura della live vi invito se avete ancora delle domande a farle in chat però appunto poi tra 5 minuti chiudiamo perché è ora di cena per Salvatore non ancora forse perché in Inghilterra sono le 7 sì sì ma qua mangiamo presto ecco quindi sì vado a casa e c'è cena praticamente perché sei ancora in ufficio cioè stai facendo live all'ufficio mi sento ancora più in colpa trattenere un uomo in ufficio ma non è extra work questo qua quindi it's ok non vedo arrivare altre domande quindi io direi che abbiamo ampiamente trattato gli argomenti che ci eravamo prefissati e siamo anche riusciti a diciamo estendere cosa parlando di ponte sullo stretto e quant'altro e ah qua c'è una domanda che però come si potrebbe diminuire l'inquinamento dell'MMT e camion eccetera io non so che cosa siano le MMT cioè mi viene in mente la modern monetary theory è vero sì no neanche io non lo so magari ci può scrivere camion trasporti quindi sarebbe un altro argomento macchine movimento terra ok lo dovrei sapere quindi colpevole beh considera che sono al momento le macchine di movimento terra insomma tutte le macchine usate in cantiere sono camion cioè vanno a diesel insomma quindi nafta anzi peggio ancora quindi come lo decarbonizzi o se le fa diventare elettriche tra l'altro io so che alcune macchine Luca probabilmente tu lo sai meglio di me alcune macchine usate nelle cave sono già elettriche sì la bugger la bugger 93 è elettrica ha bisogno di una external power source per funzionare un mostro del genere non lo puoi alimentare direttamente con i combustibili fossili perché te ne servirebbero troppi dovrebbe avere tipo un serbatoio grosso quanto la macchina stessa sì no no la porti dove ti serve la colleghi la parte meccanica diciamo che muove fisicamente il mezzo e c'è il motore a combustibili fossili poi arrivi dove ti serve la colleghi e la fai funzionare scavare carbone sì sì ma io guarda dal punto di vista del se tu prendi il cantiere in generale la i i mezzi certo emettono produrre un inquinamento però poi la maggior parte dell'impatto ce l'hai comunque dai materiali dall'intero ciclo vita dei materiali ok va bene allora io direi che si è fatta ora di cena e quindi ringrazio moltissimo Salvatore per il suo contributo vi aggiorno sulle live delle prossime settimane vi dico già che la settimana prossima non streamerò di giovedì perché sono via mercoledì e giovedì streamerò probabilmente venerdì sera grazie Salvatore grazie a tutti grazie a voi grazie a te continuate a seguirci buon appetito grazie ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti